Buongiorno a tutti, nel video di oggi ho deciso di parlarvi di Giorgio Rochard. Me l'avete chiesto, ho aspettato qualche giorno perché volevo essere pronto nel trattare un tema così delicato. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo. L'unico contatto che ho avuto con lui è stato uno scambio di mail anche piuttosto rapido. Mi ricordo che una decina di anni fa andai al Salone del Libro per presentare un mio libro. Lo scrisse a Rochard per invitarlo a partecipare come pubblico alla presentazione del libro. Mi si dispose molto educatamente dicendomi che non era in condizioni di muoversi, non andava più al Salone del Libro. Aveva apprezzato il mio invito ma non era nelle condizioni per esaurire la mia richiesta. Poi non ho avuto più occasione di vederlo o sentirlo, in realtà non ho mai avuto contatti con lui ma semplicemente perché non frequentavamo gli stessi ambienti. Seguivamo anche percorsi, ovviamente oltre a essere generazioni diverse, ma essendo io all'epoca un'accademia, in realtà non lo so neanche ancora adesso, le mie attività all'università sono abbastanza defilate rispetto al mondo che conta. Ma ripeto, è sicuramente stato un personaggio che ha segnato anche la mia formazione, indipendentemente dal fatto di non averlo mai frequentato, ma sicuramente il suo apporto, la sua opera molto vasta di stereografia militare, non solo, ha rappresentato anche per me un fondamento, un elemento fondamentale per la mia crescita culturale. Tra l'altro io vorrei farvi vedere, adesso poi vi leggerò alcuni passi, questo volume, notissimo, breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943, scritto a quattro mani tra lui e Giulio Massobrio. Questo volume io l'ho avuto in dono da mio padre, che lo comprò in una bancarella, in un invito alla lettura, che erano, lo fanno ancora adesso, sono delle manifestazioni estive, in genere, non so se lo fanno ancora, lo facevano intorno a Castel Sant'Angelo, c'erano una serie di stand di gazebo, in cui appunto offrivano a prezzi scontati, volumi remenders, o comunque volumi che non avevano avuto fondi di magazzino, e varie cose che venivano offerte come invito alla lettura, l'occasione per allargare un tale pubblico. E questo volume, che come prezzo di copertina aveva 15.000 lire, c'è anche lo scontrino, negli anni poi l'ho lasciato qui per una questione anche affettiva, 19 luglio 1994, il prezzo alla metà 7.500 lire, quindi diciamo che abbiamo un scontrino fiscale, sembra una cosa taroccata, però c'è anche il bollino del Ministero delle Finanze, diciamo che uno scontrino a tutti gli effetti, nonostante siano passati oltre 30 anni. Quindi questo è stato un libro che io ho consumato, possiamo dire, è stato anche un elemento molto importante per la mia formazione, mi ricordo che ho avuto modo di leggerlo e di approfondirlo in occasione del mio esame di storia militare, nonostante poi avessi altri volumi da programma, però questo mi ha dato sicuramente una chiarificazione maggiore. Poi di Rochard non posso che citare questo volume monumentale, scritto anche questo a quattro mani con Piero Pieri, su Badoglio, la prima parte è scritta da Pieri, il secondo da Rochard, che è un po' una pietra miliare degli studi, non solo su Badoglio, ma in generale. E poi quello che reputo, secondo me, il libro più importante, ripeto, secondo me, magari parlate con 500 altre persone e vi diranno che gli studi sulla Prima Guerra Mondiale, su altri temi, sulla seconda, eccetera, ma secondo me il libro che per me è stato un'ispirazione è stato questo. L'esercito italiano, da Vittorio Veneto a Mussolini. e ho deciso di leggervi le premesse, non solo di questo che è un'edizione del 2006, se non vado errato, esatto, ma soprattutto quella del 67, che sono riuscita a recuperare in biblioteca, quindi vi ho fatto le fotocopie, che è pressoché introvabile. Allora, è interessante perché c'è un confronto anche con la prefazione, la premessa dell'edizione del 2006. Allora, però, prima di leggervi le due premesse, vi voglio leggere la prefazione alla prima edizione scritta proprio da Pieri, e diciamo che era precedente a questo lavoro qua, perché questo lavoro qua sarebbe uscito nel 70, adesso ve lo dico, nel 74, quindi questo è di 50 anni fa, mentre la prima edizione dell'Italia risposta all'esercito italiano da Vittorio Venni e da Mussolini è addirittura del 67. Quindi la prefazione di Piero Pieri del 67. Quindi, diciamo, Rochard era un giovane ancora storico, diciamo, era stato allievo di Pieri e quindi ne aveva poi tratto una sorta di eredità. E l'eredità di Rochard, non so chi può ricepirla, ci sono vari pretendenti, non so a che livelli, non posso dare giudizi in merito. Sono particolarmente lieto di dover esprimere il mio pensiero sopra un lavoro che non solo fa onore all'autore, ma mostra il vivo desiderio delle nuove generazioni di giungere a una sempre più profonda comprensione del nostro più vicino e incombente passato, e soprattutto dell'agitato quadriennio 1922, che ebbe quale risultato l'avvento del fascismo, nonché dei tre anni immediatamente successivi che videro il consolidarsi della dittatura. Non disdegnando l'esame da alcuni aspetti della nostra vita politica e sociale finora quasi del tutto trascurati, fra cui quello delle nostre istituzioni militari, viste come risultante di queste, ed elemento a sua volta agente e premente su di esse. Argomento a prima vista di mediocre interesse, pesantemente arido e certamente o meno brillante, avvincente che non lo studio all'esposizione di brillanti campagne di guerra e di battute famose, questo è il 67, è un momento anche di svolta dal concetto della storia militare come istuar battaglia, come narrazione, come analisi dei fatti bellici, delle cannonate, a fare un discorso anche più organico sulla struttura organizzativa, sulla politica militare, anche in relazione ad altri settori della storia, come per essere la storia economica, la storia diplomatica, la storia sociale. Quindi diciamo che siamo nel 67, diciamo che l'anno dopo sarebbe successo qualcosa anche a livello di approccio culturale rispetto a un sentimento molto più tradizionalista, molto più istituzionale, per istituzionale intendo le battaglie per quanto riguarda la storia militare. ma ricco da attrattive e di risultati solo che si sappia affrontare e perseguire con la necessaria larghezza di vedute. La storia militare infatti affonda le sue radici nel terreno delle strutture politico-sociali di cui le istituzioni militari sono un'espressione valese e non solo in quello che la guerra con i suoi eserci, le sue armi, le sue molteplici esigenze, i suoi metodi di condotta appare quale la risultante della civiltà nei suoi diversi aspetti attraverso i secoli. Ma questa relazione che a prima vista può sembrare ovvia si manifesta in realtà in modi spesso tutt'altro che palesi, quasi sottilissimi fili per dirla con Clausewitz, che dall'organismo politico-sociale penetrano in tutta l'organizzazione delle forze armate e nella stessa loro attività in guerra. Quasi come una sottile e diffusa innervatura dunque che anima tutto l'organismo ma che non è facile eseguire automaticamente. Non solo, ma le forze armate, espressione delle condizioni politico-sociali di un paese, influenzano a loro volta direttamente o indirettamente con il loro costo e con la stessa loro esigenza l'attività e la politica di uno Stato. E questo più che mai oggi che i problemi militari sono per tre quarti almeno problemi dell'industria e della tecnica civile. Sempre più desiderabile quindi, anzi ognora più necessario, che l'opinione pubblica si interessi dei problemi militari che non sono per nulla esclusivi di una data casta o di una data professione, ma riguardano strettamente tutta la nazione e più che mai la sua classe dirigente. E li interessano sia nei riguardi la sua politica estera che della sua politica interna e della sua economia, che è quanto dire del suo avvenire. Mi sembra un discorso che a distanza di 57 anni sembra ancora per alcuni un elemento di miraggio. Nel senso che la storia militare è stata ormai, almeno in alcuni ambienti, sdoganata come una tematica, una disciplina storica che non è legata a sono un militarista, voglio, sono un guerra fondaio. No, io ho l'interesse per la storia militare perché mi racconta, mi spiega determinate dinamiche delle forze militari, ma anche tutto quello che ci circonda, anche a livello politico, sociale, economico, eccetera, eccetera. Che si tratta in sostanza del grande problema della sicurezza esterna ed interna dello Stato da ottenersi nel modo migliore attraverso un intelligente e oculato impiego dei mezzi di ogni specie che valgono a costituire il potenziale bellico di una nazione. Problema grave e che in realtà non è nuovo e fu sentito a più riprese anche in Italia dopo il 1849, specialmente quando si trattò di ricostituire l'esercito piemontese e trarre sul serio dal regno subalpino tutti gli uomini e i mezzi utilizzabili per la prossima nuova grande prova e la questione fu ribattuta largamente nel Parlamento e nella stampa e di nuovo nel 1859-60 allorché si presentò il grande problema della creazione dell'esercito nel nuovo regno d'Italia ovviamente Vieri che aveva scritto la storia militare del risorgimento non poteva che trovare l'infa vitale in questi discorsi. In entrambi i casi si erano trovati di fronte gli elementi professionisti conservatori da un lato e i democratici dall'altro fidenti gli uni unicamente nelle forze regolari disciplinate addestrate per base del fatidico spirito militare e gli altri al contrario delle forze occulte dell'anima popolare e non in memoria delle belle prove della Landwehr prussiana e in generale dell'apporto popolare alla guerra trinazione del 1813-14 ma in entrambi i casi democratici avevano mostrato come fossero nell'insieme impreparati a sostenere con un preciso e valido programma e proposte concrete i loro ideali e a farli prevalere non solo di fronte all'altezzosa sufficienza dei generali forti della loro preparazione specifica e della loro esperienza ma pur anche di fronte alla massa pavida e misoneista dei moderati e dei benpensanti nonché dei privilegiati esenti dall'onore del servizio militare di quei nobili sforzi della democrazia subalpina italiana si era perso persino si può dire il ricordo e ancora durante il cinquantennio liberale in periodo di pace armata non si può affermare che l'opinione pubblica si fosse interessata veramente e sul serio preoccupata delle questioni militari che purtanto incidevano sull'economia del nostro giovane stato gravato da una serie di onerosi e pressanti problemi in realtà si era oscillato fra l'antimilitarismo vacuo e parolaio degli elementi di sinistra e il fatuo parlare e scrivere dei soliti strateghi da caffè da un lato e l'arretrare dall'altro lato come pervasi di sacro terrore di fronte ai problemi militari quasi si fosse trattato di una scienza arcana di un piccolo numero di iniziati né il primo timido esperimento di un ministro borghese della guerra e neppure l'impresa libica erano varsi a interessare sul serio l'opinione pubblica la quale si era mostrata imperturbabilmente incapace ed esercitare sulle forze armate quel controllo che sapeva esercitare sulla politica estera su lavori pubblici sulla magistratura e la scuola la durissima prova della guerra 15-18 vinta dal popolo in armi guidato dalla borghesia in armi e sentita per la prima volta dall'intera nazione come vera guerra totale che prendeva nel suo vertice e assorbiva e impegnava direttamente o indirettamente tutta quanta la popolazione e tutte le forze vie del paese farve suscitare una coscienza nuova e soprattutto fra gli ex combattenti il desiderio diffuso che la loro grande e onerosa esperienza non andasse perduta che l'esercito dell'Italia vittoriosa fosse uno strumento nuovo efficiente dotato del necessario armamento con un nucleo non numeroso ma ben se nazionato d'ufficiali di carriera e il resto d'ufficiali di complemento un esercito che sapesse usufruire il più possibile delle risorse industriali e tecniche del paese con una sola classe chiamata per intero alle armi e soggetta però a non infrequenti richiami un esercito insomma che libero dalle onerose e inutili sovrastrutture parassitarie distraenti troppi soldati e troppi ufficiali dei loro compiti essenziali fosse bene al corrento delle continue trasformazioni delle armi e dei mezzi tecnici e rappresentasse per davvero una sicura difesa del paese cercare una via di mezzo tra l'esercito nazionarmata e da un'altra parte l'esercito vecchio stile quello di professionisti quello che era quello francese per capirci fra l'armistizio del novembre 18 e i rassodarsi della direttatura fascista del 25 si ebbe dunque come non mai in Italia nei riguardi del problema militare una fioritura di pubblicazioni grandi e piccole e articoli su riviste giornali e discussioni al Parlamento e nei comizi ne ritrovi e raduni di ex combattenti che si intrecciarono e si mescolarono spesso specialmente nei primi due anni con tutto il tumultuoso e caotico svolgersi della vita pubblica scossa e agitata da una serie di problemi gravissimi quali la smobilitazione il riassorbimento degli smobilitati nelle funzioni della vita civile mentre le industrie erano in crisi per l'improvvisa cessazione della mobilitazione industriale il rincaro pauroso della vita le agitazioni operaie col miraggio della rivoluzione russa e la speranza messianica di un ordine nuovo le difficoltà di giungere una giusta pace che rappresentasse il vero coronamento della guerra vittoriosa in un'Europa rigenerata e già scossa invece dal dilagare sfrenato dei diversi questo l'argomento preso a trattare dietro felice autorevole suggerimento di Ferruccio Parri dal nostro Giorgio Rochard argomento del tutto nuovo e quanto mai interessante ma per nulla facile il giovane autore vi si è accinto dopo una serie preparazione dimostrata in vari notevoli saggi di argomento militare relativi all'esercito italiano d'anteguerra e soprattutto a un'organica militare ben diversa dalle aride e gelide trattazioni avulse da ogni legame con la vita politica di cui si era spesso dovuti contentare per la dietro e denotanti ora una singolare attitudine ad affrontare e approfondire argomenti di si fatta specie quali i rapporti tra governo e capo di stato maggiore la natura e le entità delle spese militari italiane negli anni precedenti la prima guerra mondiale e ci aveva dato pure notizie interessanti sulle informazioni ricevute al nostro comando supremo nel periodo della neutralità sulla guerra di trincea in Francia e sull'antimitarismo degli elementi di sinistra nel primo dopoguerra nonché sull'influenza dell'inchiesta sopra Caporetto e dalle e delle relative polemiche sulla lotta politica del 19 e questo pur sorvolando sulle numerose acute e ben informate recensioni relativi a libri di argomento militare ovunque poi era da rilevare lo sforzo d'obiettività e di indipendenza di giudizio nella sua indagine il Rochard si è valso soprattutto della numerosa pubblicistica dell'epoca ma ha pure compiuto indagini archivi e ha utilizzato materiale inedito e ha sfruttato la memorialistica con ampia in verità con non ampia in verità relativa al periodo 19-25 e l'ancora meno vasta bibliografia quando si voglia parlare di lavori di un certo rilievo di studi del genere non poteva valersi che di qualche nostro scritto del pregiovolissimo saggio del Pischedda sulle riforme militari in Piemonte nel 1848-59 e del sempre fondamentale lavoro anche se ormai di 35 anni fa del pubblicista Montaiglie sull'esercito francese dal 1815 al 30 ed egli ha sviluppato con felice intuito quanto in tali lavori rappresenta un indirizzo nuovo e ci ha dato un libro originalissimo e tale da fare onore ai nostri studi storici nel nuovo lavoro vediamo agitato il mito della nazione armata ma ancora una volta pur dopo la grande esperienza collettiva della prima guerra mondiale appare la mancanza da parte dei sceti colti italiani di una adeguata preparazione a tradurre in atto quanto del mito poteva diventare elemento sostanziale e d'altra parte i ministri borghesi della guerra bonomica sparotto soleri tutti ex combattenti non videro per il momento almeno che la questione della ferma breve e non quella ben più grave della riduzione della mastodontica costosissima macchina burocratica militare in gran parte adibita a funzioni non strettamente relative alla preparazione bellica che distoglievano in troppa misura anche i soldati dal principio compito dell'addestramento tattico sul terreno secondo le esigenze delle nuove armi mentre trascurava appunto questa lasciando l'esercito impreparato e disarmato e il paese illuso ed indifeso lo stesso errore commisero i partiti e le correnti politiche che soprattutto agitarono i problemi dell'esercito nuovo il roccià ci dimostra poi come anche i partiti di estrema sinistra non abbiano mai avuto una vera politica militare considerando l'esercito un'istituzione borghese ed aspettando lo sfasciamento del regime capitalistico per affrontare il problema dell'esercito russo ma neppure il fascismo ebbe una sua politica militare degna di questo nome né Mussolini nel suo dilettantismo istrionico era uomo da provvedere al gran compito e quando il genio di Giorgio volle tentare una riforma realmente ardita anche se in parte discutibile si trovò come tutti i maggiori esponenti della gerchia militare e si vide lasciato in asso dal duce su di Giorgio vi invito a andare a recuperare il video magari lo metto in descrizione su una riforma che era all'avanguardia per quei tempi e che venne buttata nel cestino solo per ringraziare per unire per consolidare quel matrimonio di interesse tra regime e casta militare una politica militare ebbero sempre invece e Ruscià ben lo dimostra propri militari di professione il trinomio Diaz Badoglio Albricci da prima spalleggiato una serie di organi consultivi quasi esclusivamente di generali organi creati per l'appunto dal socialista riformista Bonomi che finirono con l'imporsi sino al binomio Badoglio Cavallero cui si dovette in sostanza il cosiddetto ordinamento Mussolini battezzato pomposamente quale statuto dell'esercito e la politica dei militari significò ritorno all'esercito di caserma grazia militare dai possenti organici soprattutto nei più alti gradi destinata a dare più che mai l'illusione di una forza che in realtà mancava o poteva valere solo in guerre coloniali o nell'appoggio a guerre civile esterne come in Spagna l'accordo tra fascismo ed esercito significò sotto la parvenza della politica di questo mano libera alle altre gerarchie in tutte le questioni riguardanti le forze armate fatta eccezione per qualche tempo dell'aviazione in cambio dell'appoggio silenzioso al regime con la tacita solleranza dell'una sua costosa milizia di partito in questo modo erano poste le premesse e della disastrosa guerra del 40-43 e della caduta del fascismo ma appare evidente quanto lo scarso e poi lo meno insufficiente interessamento e la sostanziale impreparazione dell'opinione pubblica ai problemi militari della nazione abbia influito sul fatale andare degli avvenimenti che portarono all'affermazione della dittatura fascista con tutte le sue conseguenze e quanto sia necessario che la nazione consideri le forze armate come una cosa propria e come tali le ami non a base di una vuota retorica ma col seguirne attentamente le vicende e comprende le vere esigenze e qui si chiude la prefazione di Pieri e passiamo alla premessa di Rochard sempre del 67 la storia contemporanea dell'esercito italiano è argomento pressoché ignorato dalla moderna etica storica se la partecipazione italiana alla prima guerra mondiale è relativamente conosciuta ma troppo pochi sono gli studi che sanno superare l'impostazione nazionalistica e da critica consolidata nel ventennio fascista le vicende della guerra 40-43 sono state lasciate alla memorialistica e a una produzione giornalistica insufficiente per qualità e persino quantità con rarissime eccezioni del tutto trascurati sono poi gli avvenimenti compresi fra la fine del risorgimento e lo scoppio della prima guerra mondiale e tra Vittorio Veneto e la guerra di Ovio decenni in cui le forze armate assorbirono una quota del bilancio statale che sembra esilgua solo a chi presta l'occhio alle ricorrenti lamentere degli ambienti più nazionalisti ma che non ha suscitato l'interesse degli storici in cui furono creati e sviluppati quegli organismi militari di cui la critica si accorge solo al momento della prova sul campo di battaglia in cui l'esercito ebbe una parte nella politica interna che non si limita certo ai periodi di stato d'asserio il disinteresse che quasi sempre circondò i problemi in Italia in Italia ugualmente incoraggiato da destra e da sinistra dagli ambienti antimitaristi e dai generali continuano oggi nell'astrografia italiana lasciando vaste zone d'ombra nella ricostruzione del nostro passato malgrado l'opera del Pieri abbia dimostrato la ricchezza e la vitalità di questi studi la nostra ricerca si propone di contribuire a rompere questa tradizione di indifferenza mostrando che i problemi cosiddetti tecnici degli ordinamenti militari hanno una base politica di insospettata profondità e che lo studio della struttura dell'esercito e degli orientamenti della opinione pubblica può compiersi con qualche vantaggio della più ampia ricerca storica abbiamo preso in considerazione uno dei più importanti periodi della storia militare italiana il primo dopoguerra in cui la nazione vittoriosa volle creare un esercito nel quale fossero contemperate le esigenze politiche e finanziarie dello Stato e le esperienze della guerra mondiale periodo estremamente interessante l'unico della storia dell'Italia unita in cui i problemi militari furono largamente sentiti dall'opinione pubblica e dibattuti sulla stampa politica questo nostro lavoro abbraccia gli anni che vanno dalla fine della guerra al definitivo assestamento dell'esercito e alla contemporanea affermazione di una politica militare fascista nuova più nelle parole che negli altri non si tratta però di una vera e propria storia dell'esercito italiano dal 19 al 25 troppe sono le lacune e gli interrogativi rimasti nelle nostre pagine problemi fondamentali non sono stati affrontati basterà citare la liquidazione del materiale bellico in cui scomparve un numero imprecitato di miliardi le opinioni politiche degli ufficiali la creazione e lo sviluppo della milizia fascista l'antimilitarismo delle masse socialiste marina e aviazione non sono state prese in considerazione anche gli orientamenti della dottrina militare nel dopoguerra e la cultura degli ufficiali sono stati trattati solo di sfuggita la causa prima dei limiti della nostra indagine è la mancanza di studi preparatori di qualsiasi genere sul periodo che ci ha costretto ad affrontare praticamente ogni argomento senza appoggi né punti di riferimento partendo ogni volta da zero la seconda causa è poi la scarsezza delle fonti disponibili gli archivi dell'esercito senza i quali ogni studio non può essere che frammentato e provvisorio sono quasi ermeticamente chiusi stiamo parlando sempre del 67 la memorialistica è quasi inesistente i fondi archivistici privati che abbiamo potuto vedere sono di interesse episodico gli atti parlamentari infine forniscono i bilanci ufficiali utilizzabili solo dal 1922-23 cioè dalla fine delle spese straordinarie di guerra e il testo dei principali provvedimenti ma non un reale controllo su di essi le discussioni in aula sono fondamentali per alcuni episodi inesistenti per i più la prima discussione del bilancio di previsione del ministero della guerra ebbe luogo alla fine del 24 per poter dare una certa continuità al nostro esame abbiamo dovuto rivolgerci alla stampa periodica compiendo lo spoglio di buona parte delle maggiori riviste quotidiane delle varie tendenze oltre a fornire elementi sostanziali alla nostra ricostruzione delle vicende dell'esercito questo spoglio ci ha permesso un primo studio degli interessi delle reazioni dell'opinione pubblica e dei partiti dinanzi ai problemi militari che è la conseguente revisione di alcuni media alimentati della propaganda di pace il nostro lavoro si muove quindi tra due poli di interesse le vicende dell'esercito viste soprattutto nel loro significato politico e gli orientamenti dell'opinione pubblica in materia militare due temi che si integrano e ci salvano almeno lo speriamo dalla unilaterietà che troppo spesso osserveremo nei capi e negli studiosi militari chiusi in una visione settoriale delle esigenze nazionali e nei dirigenti e negli studiosi politici usi a concedere all'esercito stanzialmente retorica ma non il loro interesse e il loro tempo l'individuazione dei maggiori problemi militari del primo dopoguerra e il loro inquadramento nella contemporanea storia politica sono quindi lo scopo della nostra ricerca i suoi limiti e useremo dire i suoi pregi sono indicati al fatto che si tratta del primo studio sull'esercito italiano all'indomani di Vittorio Venni e scusate se è poco aggiungo io mi si è consentito di attestare la mia profonda gratitudine al professor Piero Pieri che agli studi militari mi incoraggiò e mi sorresse e che per questo mio lavoro ha posto a mia disposizione senza limite di tempo la sua esperienza di testimone e di studioso consigliandomi nelle ricerche bagliandone man mano i risultati ripetendo la prima stesura il mio debito di gratitudine è pure molto grande verso il professor Mario Bendiscioli ordinario di storia moderna presso la Università di Pavia che mi ha avviato agli studi storici e mi ha sempre eseguito con interesse e pazienza e verso il senatore Ferruccio Parri presidente dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento Liberazione in Italia che mi ha offerto la possibilità di condurre queste ricerche largendomi generosamente fiducia e consiglio desidio ringraziare anche la professoressa Bianca Ceva segretario nazionale dell'Istituto per la Storia del Movimento Liberazione che mi ha sempre eseguito e sospinto sono stato aiutato nel mio lavoro da una borsa di studio per il 63-64 della fondazione Vittorio Emanuele della Cassa di Spalmio delle Provincie Lombarde e da una borsa di studio per il 64-65 dell'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea dell'Università di Pavia diretto dal professor Mario Bendisciola questa è la realtà del Rochard del 67 passiamo con un passo lungo quasi 40 anni alla edizione del 2006 la premessa vediamo cosa dice Rochard ristampare un volume di storia contemporanea a 40 anni della sua uscita è cosa inconsueta anche i libri possono invecchiare per lo sviluppo delle ricerche e la disponibilità di nuove fonti la ripresentazione di questo volume del 67 ha però alcune buone ragioni il nostro paese è sempre stato povero di vere discussioni pubbliche sulla politica di difesa e l'organizzazione delle forze armate se ne dibatte aspramente al momento della nascita dello Stato e dell'esercito unitario ma nel secolo e mezzo successivo questi temi furono nessuno tuttora riservati agli addetti ai lavori senza un autentico coinvolgimento dell'opinione pubblica salvo fiammate estremiste disegni diversi e molta propaganda l'unico vero e grande dibattito nazionale che si ebbe dopo la fine della prima guerra mondiale con la partecipazione intensa e articolata delle forze politiche degli ambienti militari e soprattutto di buon numero di reduci gli uni impegnati soprattutto nella denuncia degli orrori della guerra e della durezza della ripressione interna gli altri fermi nella convinzione che la ristrutturazione dell'esercito dovesse tenere conto delle esperienze belliche con il grande ruolo assunto dagli ufficiali complemento e l'efficacia delle nuove armi aeree gas e carri armati anche per quanto anche quando si acquitarono le furiosi polemiche dell'estate del 19 la discussione sulla difesa nazionale continuò sulla grande stampa e tra le forze politiche non con una notevole vivacità fino al 25 basta ricordare che ogni quotidiano e ogni rivista nazionale aveva il suo esperto militare e gli dava spazio adeguato la dimostrazione dell'ampiezza del dibattito 19-25 è che mi fu possibile ricostruirlo per questo volume malgrado negli anni 60 gli archivi fossero ancora chiusi in particolare quelli militari avevo però una grande fonte alternativa la ricchezza di notizie offerte alla stampa lo spoglio di una dozzina di quotidiani di due dozzine di riviste nazionali e in più il ricorso agli atti parlamentari mi fornirono una base sicura e articolata di cifre valutazioni prospettive e progetti concreti di diverso segno questa base documentaria rimane valida e a tanta distanza conserva al volume la sua ricchezza e attualità fino all'anno 25 quando l'intervento di Mussolini segnò una svolta importante nella riorganizzazione delle forze armate il vivace dibattito sull'ordinamento dell'esercito proposto dal ministro Di Giorgio fu però l'ultimo condotto liberamente poi regime dittoriale soppresse ogni discussione pubblica e pose fine alla libertà di stampa quotidiani e riviste vennero inquadrati controllati e censurati non a caso c'è il dibattito su esercito e nazione un testo che abbiamo avuto modo di esaminare che è un po' lo specchio di questa massificazione di questa omologazione della stampa durante il regime non a caso viene iniziare le sue stampe nel 26 dopo il 25 le questioni militari furono trattate soltanto in chiave di glorificazione del regime e restava a spazio soltanto per l'avocanda un altro elemento di interesse di questo volume è il suo carattere di apertura ancora valido oggi come superamento della Istuar Battaglia l'ho detto poco fa la visione tradizionale della storia militare come narrazione di grandi battaglie e episodi di valoro cariche di cavalleria assalte la baionetta belle uniformi e fangose una visione che continua a contare e interessare la ricostruzione dei combattimenti è essenziale ma costituisce soltanto un versante della storia militare in cui non mi batto su questa cosa molte dei miei libri non sono sulle battaglie ma sono sul contorno su quello che accade prima e dopo su quello che determina la sconfitta o la vittoria a monte stanno le scelte politiche i problemi finanziari l'istituzione militare il suo ruolo nella difesa dell'ordine interno e la cultura degli ufficiali se questo volume ha un merito è di conservare la globalità dell'approccio ai problemi militari del dibattito e del dopoguerra così ricco e anche contraddittorio e poi di documentare il fallimento delle battaglie di rinnovamento condotte dai reduci la riorganizzazione dell'esercito su soluzioni conservatrici moderate che tenevano insufficiente conto delle esperienze della grande guerra fu il risultato della graduale riscossa delle destre e fu sancito dall'appoggio dato dalle girarchie militari al governo e poi alla dittatura dei mussolini in cambio della conferma del loro potere nella gestione dell'esercito e della marina quindi non possiamo non ragionare sul fatto che il badoglio del 25 in cui qui ci viene descritta una situazione di stagnazione è lo stesso badoglio del 40 cioè se nel 40 la situazione è deprimente è farraginosa è perché sono passati 15 anni in cui non è successo nulla o quello che è successo è stato una ritorno al passato una ripetere i propri errori convinti che tanto tutto potesse andare bene un intreccio di scelte tecniche e politiche che evidenzia la complessità della politica di difesa restano da ricordare le conseguenze non lontane della accettazione della dittatura fascista ossia una politica di potenza ben al di sopra dei mezzi una militarizzazione di facciata il mito del duce infallibile fino alle sconfitte della seconda guerra mondiale questo volume conserva la sua validità anche per un altro aspetto ahimeno positivo dal 1967 gli studi sul primo dopoguerra e l'avvento del regime fascista hanno fatto grandi progressi ma nessuno dei molti e validi studiosi è ritornato sui problemi trattati in questo volume salvo apporti settoriali gli studi storico-militari tradizionalmente poco curati nel nostro paese negli ultimi decenni hanno avuto uno sviluppo discontinuo la grande guerra italiana è stata sottoposta a radicale revisione a partire dai volumi di Enzo Forcelli e Alberto Monticone protone di esecuzione la terza a Bari 68 e Mario Isneghi il mio della grande guerra la terza a Bari 70 non cito la ricca produzione successiva salvo la mia rassegna l'Italia nella prima guerra mondiale problemi di interpretazione e prospettiva di ricerca Feltrinelli 1976 un libro validissimo e l'opera di sintesi che ho scritto con Mario Isneghi la grande guerra 14-18 la nuova Italia Milano 2000 le vicende dell'esercito in tempo di pace invece non hanno suscitato ugualmente interesse neppure per il grande dibattito 19-25 sulle conseguenze degli insegnamenti della guerra possiamo quindi riproporre questo volume nel 67 perché non è stato ancora sostituito da una ricerca più ampia né messo in discussione nei suoi elementi fondamentali da nuovi studi sono passati nel frattempo altri 20 anni circa non è che c'è tanto di nuovo permettetemi l'origine di questo volume è come sempre una storia personale nel 62 l'Istituto Nazionale per la Storia e il Movimento Liberazione d'Italia di Milano stava ampliando la sua attività dalla resistenza alla storia del regime fascista con una collana di pubblicazioni presso l'Idoore la Terza avevo cominciato a collaborare con l'Istituto d'Aosta dove facevo il mio servizio di leva come sottotenente degli Alpini avevo già scritto alcuni articoli sull'esercito 14-15 e intendevo continuare gli studi di storia militare il presidente dell'Istituto Ferruccio Parri non sto a ricordare i suoi titoli come combattente della grande guerra antifascista dirigente alla resistenza presidente del consiglio dei ministri del 45 un uomo politico di grande affascinante moralità a cui conservo tutta la mia devozione mi propose di scrivere una storia della politica militare del regime fascista accettai con inconscienza dei miei 26 anni senza rendermi conto delle difficoltà dell'impresa non c'erano studi sull'esercito italiano né decenni di pace da prendere come base un modello e gli archivi militari e civili erano ancora chiusi mi bastava avere come riferimento due grandi autori Carl von Clausewitz per la sua straordinaria analisi della guerra e delle istituzioni militari e Antonio Gramsci per la sua visione di classe della storia italiana oggi è difficile capire quanto nuove e stimolanti fossero le aperture che offriva negli anni 50 e come unico modello uno studioso francese oggi dimenticato Jean Montaillier che con la sua storia delle istituzioni militaires de la France 1814-1932 1814-1932 Alcain Paris 1932 aveva indicato il valore politico delle leggi che reggono un esercito avevo un grosso sostegno nel professor Piero Pieri maestro di storia militare per due generazioni di studiosi che mi seguiva con molta disponibilità dalla mia tesi di laurea ricordo con riconoscenza il tempo che mi dedicava a lunghe conversazioni sulle esperienze e la storiografia della grande guerra e la sua signorile tolleranza delle mie inclinazioni marxiste e cosa per lui più grave delle mie simpatia per Luigi Cadorna verso cui Pieri nutriva la radicale avversione dei reduci della guerra combattuta un giudizio che col tempo ho finito per accettare in buona parte Pieri scrisse una bella prefazione al mio volume che non ripubblico per la lunghezza e troppi elogi o altri debiti di conoscenza verso il professor Mario Bendiscioli che mi aveva indirizzato nella mia tesi di laurea così lontana dai suoi interessi e mi procurò due borse di studi annuali poi passate vabbè qui i ringraziamenti che aveva fatto pure prima la prospettiva nella storia della politica militare del regime fascista si arenò presto per le ragioni già accennate prima per la scoperta delle dimensioni della ricchezza del dibattito dopo guerra che divenne il tema del volume del 67 oggi riproposto poi per l'impossibilità di proseguire la ricerca dopo il 25 e per la mancanza di documentazione non potevo più utilizzare la stampa perché il regime aveva stroncato la libertà di discussione né rivolgermi agli archivi ancora quasi tutti chiusi non ho ancora realizzato quanto mi chiedeva Parri una storia della politica militare del fascismo l'ho tratteggiata in alcuni miei lavori successivi rinvio al mio recente volume sulle guerre italiane 35-43 e in auto il Torino 2005 ma mi piacerebbe ritornarci in modo sistematico gennaio 2006 allora che dire di questa questa seconda premessa è una premessa che dà speranze ma anche dà un po' così molti libri sono purtroppo purtroppo per fortuna ancora validi perché non c'è stata una capacità una capacità di migliorare purtroppo gli allievi di Rochard non hanno ancora superato Rochard e questo è un elemento di di stimolo per per me che posso essere stato in realtà non lo so stato perché non sono io non sono un allievo io vengo da un'altra un altro canale io vengo dagli allievi dei sono stato allievo degli allievi dei felici quindi un altro percorso ovviamente però nonostante questo l'insegnamento di Rochard è sempre valido e da pungolo anche per me e per tanti miei colleghi che magari sono scordati di essere stati allievi di Rochard o semplicemente non lo sono stati bene con questo il libro è ancora valido questo credo sia ancora disponibile diciamo questa edizione qua se trovate quella vecchia ancora meglio avrete un elemento un po' più vintage della questione detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e un pensiero a Giorgio Rochard nonostante io oltre a un paio di mail una mandata e una ricevuta non ho avuto mai il piacere di conoscerlo ciao a tutti